Buonasera a tutti e benvenuti a questa proiezione del trentasettesimo Torino Film Festival, il film che state per vedere, lo sapete, si intitola Tito, è un film che presentiamo nella sezione After Hours dedicata a tutto quello che c'è di più bizzarro, oblicuo e eccentrico rispetto al cinema tradizionale che vedete all'interno del festival. Quest'anno durante il lavoro di selezione che abbiamo svolto con Emanuele Martini e tutti gli altri miei colleghi, ci siamo imbattuti in due film che curiosamente avevano la stessa protagonista. Il primo film è stato presentato ieri sera in concorso qui al Cinema Reposi, si intitola RAF, è diretto da Erich Ecca che credo sia in sala con noi peraltro e quindi lo salutiamo caramente, siamo molto contenti di averlo qui con noi. La protagonista di RAF è anche la regista di questo film, non che la protagonista, in una maniera però estremamente particolare che vi accorgerete, insomma perché questa maniera è così particolare. Credo che sia una giovane ragazza, donna di cinema che appunto sia come attrice che come regista farà molto parlare di sé, si chiama Grace Glowicki e vi prego di accoglierla con un caloroso applauso. Io non voglio anticipare molto della trama di questo film per non rovinarvi il piacere della scoperta, per lasciare a Grace soprattutto la possibilità di anticipare quello che lei riterrà giusto anticipare. L'unica cosa che appunto mi piace sottolineare è che lei in questo film, il suo primo film da regista, interpreta il ruolo di un personaggio maschile. Ecco, da qui lascio la parola a Grace per dire quello che vuole prima della proiezione. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Asholi Tom maino in questo film della buona dramatically масс wertaca, not say too much so you can decide for yourself what you think of it. My assistant director Harry Ciepka is in attendance, so thank you Harry for helping me make this film. Yeah, I hope you like it and I'll save anything else for the Q&A after the film. Thank you so much for being here at the Torino Film Festival and thank you to the viewers who are intervened to see my film. As suggested by Federico, it's not too much to tell you about the film. I'm very glad that here in the room there is Harry Ciepka, who is my assistant director. After the projection I'll be with you to answer your questions and a good vision. So, we're all very happy if you want to stay with us for the end of the film and make your questions based on your curiosities and ideas that have stimulated this film to Grace. Thank you Grace Glowiki for being here with us, we'll see you later. Thank you.